Buon pomeriggio dallo Stadio Friuli dove stanno per affrontarsi due formazioni che non hanno più preoccupazioni di classifica Luminese e il Bari, ma ne può venire fuori per questo una bella partita di calcio, una bella giornata di calcio Adesso c'è l'occasione ancora per il Bari con questo pallone filtrante dentro a Cetra Beggiorini Buono lavoro stretto, si libera il contatto, calcio di libero Parte il tiro, incredibilmente fuori, Barretto mani nei capelli Vuole rifarsi, buono il lavoro di Barretto di preparazione, palla sul destro, il tiro e questa volta se li fa Barretto 1-0 Bari, diciottesimo minuto Bellissima la combinazione tra Beggiorini e Barretto che si è liberato a 30 metri dall'area di rigore Inler, palla messa in mezzo, c'è lo spazio per Isla che riesce a partire il pallone di Atale Prova in diagonale a replicare, ma bravo Padelli Ancora Isla, mette giù il pallone di Atale E' arrivato il gol numero 27, numero 100, e guai a Birov, ne segna 100 per lui Ed un altro messaggio, uno a Messi, uno a Lippi E' grande ancora la giocata di Isla a destra, cross immediato, Di Natale si è fatto trovare più pronto Bellissima la deviazione verso la porta sul primo palo che ha sorpreso Padelli, incolpevole Ancora grande attizia di Isla, ancora di Atale, si coordina, sul secondo palo, palla che sfiora il montante Pepe, la cancionare, 2-1, 8 telegramma per Lippi Di Natale Pepe, tutto in diagonale Bellissima l'azione, vediamo quanto è capace di Natale anche per l'accessibilità che ha nei piedi E nella visione dei giochi di liberare i compagni Poi ancora un cross, e ancora un pallone interessante che porta la balla in Bari Koeman si è inserito alle spalle dei difensori, le partite in posizione assolutamente regolare Bravissimo, chi ha messo la palla là, in quella posizione? Bravissimo poi Koeman a Creccia, andare oltre la linea difensiva Libero a Inzaccato, toccando di prima intenzione Ma che cosa ha fatto Di Natale? È un giocatore da apprezzare perché fa gesti tecnici in velocità come... Come a naturalezza incredibile Parigi il tiro, la palla non filtra Poi Almiron si libera di un paio di avversari Si libera per il tiro col destro, a esterno E attenzione a Sanchez dall'altra parte che si accentra, palla sul destro, in sinistro Sanchez, Padelli in due tempi Attenzione qui, col pallone in aria, con Barretta che si gira, palla alta sulla traversa Dentro per Floro Flores posizione regolare, la girata! Ha un passo dal palo più lontano Donati, sovrapposizione per gli esterni di Pisano, Donati invece in mezzo, dentro Milon! 3 a 3 Il pareggio del Bari E Giorini si muove per far spazio all'inserimento di Almiron che col tempo giusto entra e colpisce al colpo sicuro E' stato un bel momento di calcio, 3 a 3 Un risultato che soddisfa tutti Applausi per Marino, applausi per Ventura, applausi per Barretta, per Di Natale, per Pepe, per tutti i protagonisti